«Durante il mio percorso politico-amministrativo ho cercato sempre di fare scelte coerenti, lineari e in piena autonomia. Oggi, dopo una profonda riflessione, sto per farne un'altra. Non mi ricandiderò alle elezioni del 3-4 ottobre né alla carica di sindaco né a quella di consigliere comunale», lo scrive sul suo profilo Facebook il sindaco facente funzione di Castellabate Luisa Maiuri. «Ho comunicato alla maggioranza, continuo alla Maiuri, la mia decisione con l'invito a continuare quel gioco di squadra che ci ha sempre contraddistinto. Dal 18 agosto 2020 ho assunto la carica di sindaco facente funzioni, portando avanti il comune in un momento di grossa difficoltà e di scelte difficili. L'ho fatto e lo farò fino a fine mandato, con senso di responsabilità, con senso del dovere, ma soprattutto con trasparenza amministrativa. Ho imparato molto, sottolinea la Maiuri, da questa esperienza diversa che, nonostante il mio lungo percorso amministrativo, è stata dura, stancante, ma esaltante allo stesso modo. Da ottobre in poi mi dedicherò di più a tutto ciò che ho un po' trascurato in questi anni, innanzitutto alla mia famiglia e ad altri impegni tralasciati. Continuerò a fare politica all'interno e per il partito in cui milito da sempre e del quale sono profondamente orgogliosa. Ringrazio i consiglieri e gli amici che da tempo sostenevano la mia candidatura a sindaco. Ringrazio tutti i miei concittadini che in questi anni mi hanno sempre tributato un consenso inaspettato. Ringrazio anche coloro che spesso hanno criticato il mio operato, anche questo è stato uno stimolo degno di ascolto. Alla squadra che ha governato il Comune in questi anni, a coloro che entreranno in questa squadra, esprimo la mia vicinanza e auguro loro un cammino ricco di successi. La bella politica che è stata per me un baluardo, conclude la Maiuri, deve e dovrà sempre prevalere ed essere pilastro di ogni azione politica e amministrativa.